Buonasera, questa sera abbiamo in studio un amico, Fabrizio Mismas, professore di scultore della nostra città, insegnante presso il liceo artistico di Carrara ed è venuto qui da noi oggi, l'abbiamo invitato perché è reduce da una fatica veramente importante. Ha scritto un libro, un libro su una ricerca frutto di quattro anni di lavoro, su un personaggio non molto conosciuto nella nostra città ma che dovrebbe essere veramente conosciuto perché se nella nostra città noi giriamo alzando gli occhi verso molti dei palazzi della nostra città riconosciamo la sua firma, riconosciamo la sua arte e il suo ingegno. Di chi stiamo parlando Fabrizio? Allora stiamo parlando di Augusto Magli, è stato uno scultore della prima generazione, quella di Del Santo e di Carmassi e le ragioni di questo libro sono essenzialmente due. La prima è la passione, la passione che io ho sempre avuto per la scultura e per il patrimonio artistico locale che stimo moltissimo e che cerco di divulgare attraverso delle conferenze. La seconda ragione riguarda un po' un atto di giustizia, Magli è colui che ha realizzato una quantità industriale di opere tra virgolette pubbliche, ci metto le virgolette perché molte di queste opere sono su palazzi privati ma poi diventano opere pubbliche perché sono esposte a tutti. Ecco una quantità gigantesca e se guardiamo proprio anche un fatto numerico Magli ha prodotto opere per la sua città più di Del Santo, Carmassi, Giovannoni, Carro, Mordaci messi insieme. Eppure nonostante questo oggi è dimenticato. Ovviamente non è stato dimenticato dai cultori d'arte, dai cultori della nostra storia ma per la maggioranza degli spezzini Magli dice poco. Quindi era giusto che prima o poi qualcuno dedicasse un libro diciamo monografico a questo nostro importante scultore. Stanno passando in sovraimpressione alcune immagini, alcune fotografie che tu hai voluto fare di queste opere d'arte. Quali sono quelle che tu ritieni veramente meritevoli di perdere o di acquistare un po' di tempo per andarle a vedere? Sì, basterebbe camminare per il nostro centro guardando un po' in alto. Ora si scoprirebbe tutto un mondo di personaggi. Lui ha cominciato a 22 anni con quella che oggi chiamiamo la clinica Alma Mater. A 23 esplode con il teatro Trianon, una bomboniera, un teatro meraviglioso con velluti rossi con tanta decorazione pittorica e plastica. E di lì in poi viene scelto dai grandi progettisti locali, coloro che hanno disegnato la nuova città, per decorare le loro realizzazioni. E allora c'è il palazzo del governo, di fronte il palazzo cosiddetto del grattacielo, poi il palazzo San Giorgio, l'ex albergo San Giorgio, il palazzo della Sprugola, il palazzo del ghiaccio, il palazzo Rossi Oriana, il teatro civico, ma poi altre realizzazioni. Uscendo da Spezia ci sono i suoi lavori alerici, San Terenzo, Bagnone, nella Lunigiana. Insomma è uno scultore che ha lavorato tanto. Io in questa ricerca più volte mi sono chiesto, ma questo lavorava anche di notte, è una quantità veramente spropositata e poi sempre di alta qualità. Ecco, il colpo d'ala, i suoi capolavori, almeno secondo me, sono il palazzo cosiddetto del grattacielo, cioè via Veneto 19 e poi il nostro teatro civico. Il resto sono grandi realizzazioni dove si vede lo scultore dal mestiere solido, dalla grande pratica di modellatore, però se dovessi proprio scegliere il colpo d'ala, il momento magico, lo stato di grazia, io lo trovo e nel grattacielo e nel teatro civico. Ecco Fabrizio, un personaggio di alto livello, di alto spessore artistico, eppure non come tutti gli altri artisti un po' particolari nel carattere, molto riservato, molto schivo. In questo era molto simile al suo grande, fraterno, amico, Angelo del Santo. Tra l'altro c'è in questo libro un capitolo dedicato a questa amicizia straordinaria fra due persone di levatura superiore, un'amicizia che ha superato prove che avrebbero messo uno contro l'altro due fratelli. Comunque era un tipo riservato, molto educato, corretto, esattamente come era del Santo, perché entrambi concepivano l'arte come un mezzo di elevazione, un mezzo altissimo di educazione, quindi dovevano per forza comportarsi di conseguenza. Non potevano far fede su questi concetti e poi fare lo sregolato, l'imprevedibile, il pazzarellone. Ecco, tu ne parli come uno scultore della nuova Spezia. È significativo questo, nel senso che veramente ha dato un'impronta a questa città. Ma è vero, è vero, perché sappiamo tutti che Spezia all'indomani della costruzione dell'arsenale comincia a cambiare completamente volto. Non dimentichiamo che in 70 anni la popolazione spezzina decuplica addirittura. Quindi questa enorme esplosione demografica ha obbligato le varie amministrazioni a fare grandi interventi edilizi. Ma non solo ci sono stati i famosi quartieri nati per dare una casa alle maestranze e dell'arsenale e delle varie altre industrie che nascevano. Non solo le necessarie infrastrutture, ma molti spezzini hanno cominciato a costruire palazzi prestigiosi e anche luoghi di ritrovo molto eleganti, i bar, i teatri. E secondo il concetto dell'epoca non si concepiva un palazzo di rango senza un'adeguata decorazione scultoria, plastica, decorativa. Ecco, lui è stato il cantore di questa nuova Spezia che ambiva ad un ruolo importante e voleva dotarsi del salotto buono. E lui è stato il grande cantore. Ecco, un'altra particolarità del tuo libro perché è veramente bello e interessante e anche appassionante. Io ho avuto modo così di dare una scorsa e sicuramente voglio approfondire. Perché non solo l'artista di per sé hai voluto citare e raccontare, hai voluto raccontare anche la storia e l'importanza di tante maestranze che non sono insignificanti nei confronti di opere d'arte così importanti. Allora, da spiegarci e come in qualche modo venivano costruite queste statue e soprattutto la grande professionalità di queste maestranze che nessuno ha mai voluto citare e tu hai voluto dedicare un capitolo per riconoscergli questa importanza e questa particolarità. Ancora per una questione di giustizia. Bisogna sapere che lo scultore, almeno lo scultore classico a cavallo fra 8 e 900, era il creatore, era colui che aveva la fantasia e le idee per fare grandi opere. Poi in genere la realizzava in creta, ma la creta non è un materiale definitivo, non si trasporta ed è delicatissimo. Quindi lo scultore, magari aiutato anche da queste maestranze, provvedeva a tirare da quest'opera di creta una copia di gesso, cioè un materiale solido, non pesante, facilmente ritrattabile sul secco. Ecco, da questo momento in poi entravano in gioco queste maestranze, non solo dimenticate, anche cancellate. A Spezia erano dei muratori, tre o quattro muratori dalle mani d'oro. A Pietrasanta, città della scultura appena antonomasia, si chiamano formatori, hanno una loro dignità e hanno anche un adeguato corrispettivo economico. A Spezia erano muratori bravissimi, che facevano un'operazione difficilissima che da 50 anni non si fa più. Addirittura è stata anche dimenticata, non c'è più nessuno che la sa fare perché questo iter operativo ha cambiato completamente le sue fasi. Di cosa sto parlando? Allora, di fronte ad un modello di gesso dovevano fare delle forme complicatissime, si chiamavano forme a tasselli, che avevano tanti piccoli tasselli per tutta la superficie dell'opera di gesso. Due grandi forme madri dovevano trattenere questi tasselli e poi dentro questa grande forma madre corredata di tasselli veniva colato il cemento, ma quasi a secco e soprattutto vuoto, che è una cosa difficilissima. Ne tiravano uno, due, tre tante copie da collocare nei palazzi, perché il cemento era il materiale più riferito all'edilizia e poi perché era il più economico, molto meno caro del bronzo e del marmo. Però queste maestranze dalle mani d'oro sono state dimenticate. Io ho cercato delle fotografie, volevo fare delle fotografie su una forma a tasselli, sono andato a Pietrasanto, ho fatto il giro degli studi, non esistono, sono state buttate via e i nuovi formatori praticamente non la sanno fare, perché sanno fare quella con la gomma, che è più semplice. Questo sta a significare come effettivamente non solo sono scomparsi questi 4-5 muratori dai nomi mitici, io li sentivo nominare da Carro, da Marconi, da Giovannoni, uno si chiamava Giotto, un altro si chiamava Medardo, ma è scomparsa anche la stessa tecnica che loro perseguivano. Ora ho voluto ricordarli facendo un capitolo apposta, spiegando momento per momento le fasi di questa procedura e cercando di fissare quello che sentivo dire dai vecchi scultori della seconda generazione, che io ho conosciuto bene e con i quali ho avuto anche tanta confidenza. Ecco, bello questa cosa qua, perché è un libro che acquisisce anche un'importanza se vogliamo storica a questo punto, proprio anche in questi particolari che possiamo dire inediti, no? Sì, sì. E del recupero di una tradizione, di un'usanza, di una professionalità, di una capacità e di una manualità che sono purtroppo scomparse. Sì, sì. Ma non è stata l'unica fatica andare a riscoprire queste cose, perché di bibliografia su questo artista, su questo Augusto Magli non ce n'è tanta. Sì. E allora sei dovuto proprio, hai dovuto proprio dar fondo alla tua pazienza e alla tua voglia di ricercare per scriverne un libro. Soprattutto ho dovuto lavorare sul campo. In genere, quando si fa un libro su un nome, un grande nome, poi si finisce per lavorare sui libri, nelle biblioteche, e qui c'era, che riguarda Magli, ci sono pochi scritti. E quindi ho lavorato sul campo, ho seguito delle tracce, mi sono letto tanti giornali degli anni 10, 20 e 30, tante riviste nella speranza di cogliere l'articolo. Ieri abbiamo inaugurato l'opera, ora quando lo trovavo potevo contare su una data certa e questo era una cosa bella. Però ho fatto anche affidamento su un'altra cosa, sui miei ricordi che ho fissato. Perché io, l'ho detto prima, avevo confidenza con gli scultori che ormai ci hanno lasciato tutti, della seconda generazione, cioè Carro, Marconi, Giovannoni, Mordaci. E loro nel tempo mi raccontavano, mi dicevano le loro idee, il loro giudizio e soprattutto anche degli episodi. Molte notizie nei riguardi di Del Santo, Magli e Carmassi. Ora, tutte queste notizie probabilmente avrebbero finito poi per sciogliersi nell'oblio. Le ho fissate, anche questo è stato un buon corpo che mi ha aiutato a buttare giù, a focalizzare meglio l'immagine di Magli Uomo e Magli Scultore. Ecco Fabrizio, un'ultima curiosità. Noi nei giorni scorsi abbiamo presentato un'opera di Del Santo. La comunità salesiana ha fatto una tomba di famiglia e sopra la tomba di famiglia è rappresentato questo Cristo Redentore. È un'opera di Del Santo, che Del Santo aveva regalato alla comunità salesiana e che è costodito l'originale, mi pare, proprio nella nostra cattedrale. E una copia ovviamente è stata posta sopra a questa tomba, una copia in bronzo. Un'amicizia particolare, come dicevi, tra questi due personaggi. È stata una grande amicizia, testimoniata dalle lettere. Le lettere mi sono state regalate in copia dai figli di Del Santo, due squisite persone, l'ingegnere e l'avvocato, che purtroppo ci hanno lasciato già. E loro mi hanno regalato queste lettere che sono una fonte di informazione straordinaria. E lì si vede questa amicizia un po' di levatura. Per esempio, fra di loro non c'è mai stato il tu, eppure si conoscevano fin da ragazzi. Del Santo era più vecchio di otto anni, ma sempre il voi, prima e poi il lei. Del Santo insegna il mestiere a Magli. Poi Del Santo si trasferisce a Torino, dove modellerà questo famoso Cristo e lo manderà a Spezia e ci penserà Magli a collocarlo. L'amico Magli era, diciamo, la persona affidabile che curava la clientela spezzina di Del Santo lontano. Poi succede che Magli lavorerà molto più di Del Santo. Questa cosa potrebbe, avrebbe potuto mettere contro anche due amici o due fratelli. Invece fra di loro no. Ci sono delle lettere, noi ci stimiamo al di sopra dei vili interessi, bisognerebbe che tutti facessero come noi, io vi ramento come una delle persone più buone che ho conosciuto. Ecco cos'è, una amicizia di levatura alta che va al di sopra degli interessi anche economici. È un'amicizia che è durata fino alla morte di Del Santo, poi sarà Magli che farà l'inventario di tutte le opere, e anche l'inventario io lo posseggo sempre in forma di coppia. Ma curerà questo inventario di tutte le opere, comprese i libri, comprese le suppellettriche, troverà nello studio del maestro. Un'amicizia straordinaria che se non ci fossero queste lettere probabilmente oggi sarebbe totalmente dimenticata. Bene, bene, una bella storia appassionante e contenuta in questo libro delle edizioni Giacquet, quindi una fatica fatta da te, un bel impegno da parte della casa editrice, un libro che verrà presentato alla città nei prossimi giorni. Quando e dove? Verrà presentato venerdì prossimo, 18, alle ore 17, nei locali dell'hotel, chiamiamolo Ex Jolly, che è più riconoscibile. NH Hotel. NH Hotel. Ci sarà una cosa straordinaria. Alle cinque sarà messa in mostra una piccolissima raccolta di opere di magli, sono cinque opere totalmente inedite, non le ha viste mai nessuno e di piccolo formato. Sono importanti perché testimoniano intanto l'eclettismo di questo maestro. E poi perché finita la giornata della presentazione torneranno a casa del collezionista che con tanta disponibilità squisita ce le ha concesse e quindi è un'occasione per vedere queste cinque opere che non ha mai visto nessuno e che poi nel futuro si vedranno forse diciamo raramente. Tra queste cinque opere ce n'è una straordinaria che è il bozzetto di gesso del monumento di Marinasco. Quindi si potrà vedere come un'idea monumentale poi leggermente cambi man mano che si passa alla realizzazione dell'opera finita. Ci sono molte differenze fra l'idea iniziale, cioè il bozzetto, e l'opera finita, il grande bronzo che è a Marinasco. È un'occasione che abbiamo voluto, assieme all'editrice, offrire alla città. Bene Fabrizio noi ti ringraziamo per averci dato questa opportunità intanto di conoscere questo grande artista. Ci associamo all'invito ad essere presenti a questa giornata venerdì soprattutto per vedere queste opere inedite e sarà una delle poche occasioni in cui ci si potrà concedere questo privilegio di vederle. Ma soprattutto leggendo questo libro si avrà la possibilità di conoscere meglio la nostra città, una città che è ricca d'arte e che merita anche di essere rivisitata con un minimo di conoscenza, perché tanti sono gli artisti e appunto Augusto Magli è sicuramente una persona che ha dato tanto a questa città e che ha bisogno di essere valutato in tutta la sua grandezza, in tutta la sua arte. Grazie Fabrizio. Grazie a voi.